In Corte d'Assise d'Appello a Torino ieri si è aperto il giudizio di secondo grado nei confronti dell'imprenditore edile 54enne Giuseppe Cauchi. In primo grado la Corte d'Assise di Novara l'ha assolto e accusato di essere il mandante dell'omicidio del 33enne Matteo Mendola. Il cadavere venne ritrovato in un vecchio capannone nei boschi di Pombia in provincia di Novara. Sia Cauchi che Mendola vivevano in provincia di Varese dove molto folta la comunità gelese. In base alle accuse ci sarebbe stata la richiesta di Cauchi che avrebbe deciso di uccidere il 33enne forse anche per vicende legate ad altri fatti illeciti. Non fu esclusa la pista dei debiti. Cauchi già in primo grado difeso dagli avvocati Flavio Sinatra e Cosimo Palumbo ha respinto ogni addebito. Per la difesa non avrebbe avuto alcun motivo per far uccidere il 33enne. I giudici torinesi hanno accolto la richiesta di riapertura degli istruttori avanzata dalla procura generale con l'esame di testi compreso uno dei killer Antonio Lembo condannato in via definitiva a 30 anni di detenzione. Fu proprio Lembo a tirare in ballo Cauchi come presunto mandante. Ritrattò però durante un confronto in aula nel dibattimento di primo grado. La procura ha impugnato l'assoluzione in appello. Ieri si è aperto il giudizio dopo lo slittamento delle scorse settimane. La famiglia della vittima è parte civile. Oltre a quella di Lembo è diventata definitiva la condanna sempre a 30 anni di detenzione anche per l'altro killer Angelo Mancino. Mendola sarebbe stato raggiunto da colpi di pistola. Venne finito con una vecchia batteria d'auto che gli fracassò il cranio. Secondo gli investigatori sarebbe stato attirato appositamente in quella zona isolata proprio per l'agguato.